In questo video vediamo cosa devi fare quando non ti rispondi ai messaggi la soluzione è super super semplice quindi non ti basare su concezioni astrali o tarocchi o segni zodiacali facciamo le cose nel modo più semplice e chiare possibile quindi se un ragazzo decide o comunque se una persona decide di non risponderti o anche una ragazza in realtà decide di non risponderti ai messaggi la soluzione è che gli dovrai mandare il messaggio che ti dirò in questo video quindi lo vediamo insieme inoltre c'è una cosa importante di cui ti devo parlare prima di darti la soluzione pratica quindi quello che gli dovrai mandare esattamente quello che ti voglio dire e che ti devo dire assolutamente è che il mandargli troppi messaggi implica e distrugge la possibilità che ti risponda e allo stesso tempo il mandare messaggi che non includono che non comprendono un punto di domanda riduce la chance di risposta quindi prima di darti la soluzione vediamo queste due cose importanti mandare un messaggio a un uomo che non include un punto di domanda riduce la possibilità di rispondere quindi mandare messaggi singoli e poi aspettarsi e pretendere che ti risponda in qualche modo è barbara come cosa è molto barbara è una cosa da barbari da prepotenti da bruti bisogna invogliare la conversazione anche quando sei di persona con qualcuno con delle domande quando stai parlando con qualcuno cosa fai? non gli fai domande? stai zitto e basta? no gli farai delle domande quindi gli chiederai delle cose e ovviamente chiedendogli delle cose riuscirai poi a ottenere delle risposte mi sembra ovvio non è che stai là stai zitto e dici ah oggi c'è il sole punto cioè no ah oggi sembra proprio che sia una bella giornata oppure no che ne pensi? bah cioè questo è il modo giusto ok? quindi fare una domanda all'altro porsi in questo modo aumenta la chance di risposta tornando al discorso invece altra cosa importante che ti consiglio di evitare di mandarti due messaggi di fila sempre o comunque fare double texting chi mi segue già sa che fare double texting è la cosa più sbagliata del mondo come fai a far sì che non si verifichi il double texting? ti limiti e comunque ti gestisci nella messaggistica seguendo quelli che sono i messaggi che lui ti manda e non il contrario cioè nel senso se lui ti manda solo un messaggio scritto tu gli risponderai con un messaggio scritto e se te ne manda uno che è grosso così come il mio dito tu gli ne mandi uno che è grosso così come il mio dito non se lui ti manda un messaggio grosso così come il mio dito tu gli ne mandi uno grosso così come quattro mie dita mie dita ok? quindi non che lui ti manda una cosa corta e tu gli mandi una cosa lunghissima e di conseguenza puoi dire di aver fatto one on one quindi il rapporto uno a uno non funziona così il funzionamento è molto più semplice di quello che credi cioè basta riferirsi e fare riferimento a come l'altro messaggio a come l'altro ti scrive detto e concesso questo andiamo alla soluzione quindi se non ti rispondi ai messaggi magari ti ha gostato quindi non ti ha risposto ai messaggi perché gostato significa che non ti ha non ti ha risposto proprio ha visualizzato senza rispondere detto questo dovresti la soluzione è mandare a questa persona un messaggio come ti sto per dire io quindi specifico come ti sto per dire io il messaggio deve essere un messaggio di domanda che dice hai rinunciato a rispondere quindi punto di domanda hai rinunciato a rispondere quindi punto di domanda ok? così come te l'ho detto quando mi mandi questo messaggio mentre lasciarsi risposta la persona si sentirà in dovere di risponderti perché il fatto che qualcuno rinunci alla risposta comunque rinunci a darti un feedback o quant'altro cioè crea una sorta di sensazione di dovere dall'altro lato e questo aumenta la chance che tu ottenga dei buoni risultati quindi mandarti questo messaggio è la soluzione perché è la soluzione perché aumenta la chance non ti garantisce il 100% ma sicuramente la porta in modo esponenzialmente elevato sopra e aumenta di brutto la possibilità che ti risponda quando aumenta di brutto la possibilità di risponda che succede? quando ti risponde di nuovo quindi quando ti risponde a questo messaggio che ti ho appena suggerito di mandarti devi fare solo una cosa cioè gli devi soltanto chiedere quando è disponibile per vedersi o prendere qualcosa da bere punto se la persona non ti risponde o non si vuole organizzare o ti dice che non lo sa forse la persona non è interessata quindi taglia la testa al toro in questo modo perché ti spingo a cercare di organizzarvi di persona e non a perdere tempo a cazzalare in chat perché quando tu ti organizzi di persona la persona accetta di vedersi con te significa che è interessata appunto si tratta di leggere in mezzo a righe senza fare altre stronzate o preoccuparsi di cose assurde o astruse bene spero di esserti stato utile noi ci sentiamo alla prossima scrivimi 99 in privato su Instagram se vuoi accedere alla mia ultima masterclass gratuita sui messaggi cosa significa? 99 quindi il numero 99 devi mandarmelo nei messaggi privati del mio account Instagram ti arriverà una risposta in automatico dove ti forniremo l'accesso al link per la masterclass sui messaggi che ti insegnerà esattamente che cazzo devi fare nei messaggi altrimenti non saprai mai come comportarti quindi vai su Instagram cerca Federico Picchianti su Instagram c'è la mia foto la stessa che vedi su YouTube o altri social e scrivimi la lettera scusami il numero 99 ci vediamo dall'altra parte della masterclass così che tu sappia esattamente cosa fare nei messaggi ci sentiamo